siamo in compagnia di agostina botti presso il castello angioino aragonese di agropoli per l'inaugurazione della mostra le dita plasmano la mente che sarà in esposizione da oggi 11 luglio fino al 20 luglio prossimo e allora abbiamo il piacere di avere la diretta interessata e cioè che ha realizzato le opere d'arte quindi agostina che adesso ci racconta perché questa mostra e perché questo titolo le dita plasmano la mente io ho scelto di realizzare una mostra il castello di agropoli perché in effetti sono nata da agropoli quindi la mia città natale dopo essere stata per tanti anni lontana e avendo avuto l'opportunità di tornare e progettare di vivere qui ho voluto realizzare una mostra e collocarmi anche artisticamente nella città cosa raccontano le tue opere ne vediamo diverse esposte ma ce ne sono anche altre invece ritratte in alcune fotografie ecco spieghiamo anche questo particolare sì allora io ho iniziato a modellare autonomamente seguendo un mio percorso di ispirazione fin da quando ho terminato il liceo artistico ed ho cominciato ad autonomamente a propormi sia a livello universitario con un gruppo di studenti che amavano esprimersi artisticamente insomma giovani artisti universitari e che mi ha permesso di farmi conoscere anche in ambito cittadino e quindi così poi sono stata apprezzata da critici anche esponenti artistici salernitani insomma della città in effetti questa mostra presento la maggior parte delle mie opere sia dell'inizio della mia produzione che le ultime degli ultimi anni quindi fino all'anno scorso e io diciamo per rendere omogenea questa carrellata di opere e non avendo potuto far pervenire qui alcune opere perché troppo grandi e troppo delicate ho deciso di amalgamare la mostra usando delle immagini di queste sculture comunque sono sculture importanti in cui io nella brochure della mostra ho riportato la critica effettuata da un famoso critico d'arte salernitano rino mele che mi ha rappresentata la mia mostra principale personale tenuta sia al fai nel 2010 quindi lui ha provveduto a fare una critica esaustiva delle mie sculture quali sono i materiali che hai utilizzato per realizzare le opere le opere sono in terracotta quindi argilla modellata esclusivamente a mano e poi patinata. Possiamo quindi dire ai telespettatori di Cilento Channel di venire a visitare questa bellissima mostra davvero molto originale ricca di significato da questa sera quindi 11 luglio fino al 20 luglio da quali orari? Dalle 9 la mattina fino alle 24 rispetto agli orari di apertura della struttura del castello angione aragonese quindi non solo una visita interessante ad un bene culturale quale il castello di agropoli ma anche una visita culturale alla mostra di agostina botti grazie a tutti